eccoeeh e la soeeh ma chi li danni sono una cucina sapete? faccio i figli di tutto quanto e lo faccio il tuo cuore e io lo faccio ecco 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 Ehi, come dico? Allora ci risentiamo, pure a te. Ciao, ciao, ciao. Ma chi mi ha vinto l'altra cosa? No, come stai? Mi ha panucurito tremendo, come si chiude? Mi ha messo male al tuo pretino. E chi guardi qua? Ma chi stai guardando? Mi ha fatto parlare questo critico all'orecchio. Ma chi d'è questa cosa? Mi hanno colto tremendo. E' già studiato? Sì, ma che cos'è che ora te lo tiro da mano? Vedi lì giù, devi tenere i capi. L'hai messo tu, stavolta qui. Ma dove sei minta stavolta? Ma chi stai guardando? Ma chi stai guardando? Ma chi stai guardando? Ma chi stai guardando? No, nessuna cosa, dammi qui. Ehi, la cancella eh.